Da lunedì sarà operativo il nuovo centro vaccinale a San Vittorino che andrà a superare le criticità di quello di Via Ficara dal punto di vista degli spazi e dei parcheggi. Il centro di Via Ficara parallelamente verrà chiuso. Quello di San Vittorino sarà un centro attrezzato, molto ampio e che dispone di un parcheggio da 350 posti, con possibilità per gli utenti che devono vaccinarsi, di ingresso e uscita dalla struttura separati. Ed è in pieno allestimento il nuovo centro vaccinale che andrà a sostituire quello di Via Ficara. Si trova a San Vittorino e come vedete alle nostre spalle ci sono già le poltroncine per l'effettuazione dei vaccini, ma anche scatoloni con camici, attrezzature, i frigoriferi che andranno a conservare le dosi di vaccino. Quindi manca davvero pochissimo, si sta lavorando in queste ore per renderlo subito operativo in attesa dell'inaugurazione di lunedì. Lunedì ci sarà l'inaugurazione, si stanno allestendo proprio in queste ore gli spazi per essere pronti. La struttura nuova di Zecca, mai utilizzata, era destinata ad ospitare ufficie e aule dell'SCPT, l'ente paritetico unificato per la formazione e la sicurezza e la salute della provincia dell'Aquina, con il presidente Gianni Cirillo. Nei mesi scorsi era emersa la volontà dell'ESE e dell'ANCE di mettere a disposizione la propria struttura per essere di aiuto in questo momento e il tutto si è concretizzato in poco tempo, fornendo una sede degna che risolve molte problematiche. Proseguono intanto le vaccinazioni e la regione ha fissato come è noto l'obiettivo di 11.000 vaccini al giorno in tutta la regione. Sulla questione delle dosi che potrebbero avanzare a fine giornata va fatta un po' di chiarezza. La ASL, sollecitata da Rete 8, spiega le modalità. Va ricordato innanzitutto che c'è una specifica ordinanza del generale Fiviolo a tal riguardo che vieta di fare i vaccini a chi non appartiene alle categorie che si stanno vaccinando al momento. Per cui non ci si può arrecare nei centri e chiedere di essere vaccinati con dosi che avanzano se non si rientra in quelle categorie perché la ASL va ad attingere ad una sorta di lista di 30 nomi da persone da chiamare come riserve i cosiddetti panchinari ma comunque rientranti nelle categorie aventi diritto e che hanno manifestato il loro interesse sulla piattaforma.